Una rielezione scontata ma di certo non meno importante, specialmente in un momento come questo dove lo sport, in primis quello amatoriale, sta pagando a caro prezzo gli effetti della pandemia. Il 38enne fanese Marco Pagnetti è stato confermato alla guida del Comitato Provinciale CSI di Pesaro Urbino con sede in Fano per il quadriennio 2020-2024. A San Cirlo è stata l'Assemblea delle Società di venerdì scorso, alla quale hanno partecipato anche Vittorio Bosio e Tarcisio Antoniozzi, rispettivamente presidente nazionale e regionale dell'ente, che ancora una volta hanno speso parole d'elogio per un comitato capace di affrontare con serietà e competenza il periodo nero per lo sport, riuscendo addirittura ad aumentare tesserati e società affiliate. Al fianco di Pagnetti per il suo mandato bis ci saranno delle colonne portanti del CSI Fano, a cominciare da Francesco Paoloni, da 36 anni, factotum Delente. E poi ancora Diego Casalini, Marco Ceppetelli, Samuele Cimarelli, Pietro Giorgi, Andrea Mariotti e Matteo Omiccioli. New entry assoluta Cecilia Furiosi, che riporta le quote rosa nel direttivo dopo la presidenza di Carla Tonelli, poi divenuta suor Carla Tonelli, risalente agli anni 80. Saluta il CSI Fano invece dopo 12 anni da consigliere Giacomo Mattioli, per cui è pronto l'incarico di presidente regionale.